Ben trovati, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale in apertura e quindi parliamo della ZTL di Alessandria in comune e in commissione di sviluppo del territorio è stato fatto il punto della situazione, sono stati illustrati i progetti per le otto telecamere nei varchi elettronici che regoleranno la ZTL e che però prevedono tempi piuttosto lunghi fino alla fine del 2024 e poi per invece favorire l'uso delle biciclette saranno completati in città i percorsi ciclabili. Vediamo il servizio. Arriverà a breve alla discussione del Consiglio Comunale preventivo di spesa di 190.000 euro per l'operazione telecamera e varchi d'ingresso della ZTL in centro città di Alessandria. Tempi brevi per l'approvazione in consiglio ma tempi piuttosto lunghi quelli previsti per la messa in opera del progetto a causa di procedure di gara d'appalto, approvazione del Ministero e tutta la burocrazia che regola i lavori degli enti pubblici. La messa in opera del progetto richiederà più di un anno e mezzo. L'assessore ai lavori pubblici Michelangelo Serra ha illustrato le tappe che necessariamente deve rispettare il progetto pensato per controllare con otto telecamere otto punti d'ingresso in parte del centro. Il punto della situazione è stato fatto nell'ultima seduta della commissione consigliare sviluppo del territorio. Nell'occasione l'assessore Serra ha spiegato che quando le telecamere saranno stellate sostituiranno i vari pilomat e la fioriera mobile all'ingresso di via San Giacomo della Vittoria. Il problema a tempi lunghi dipende dal procedimento di autorizzazione per la modifica del piano generale del traffico urbano, per l'affidamento dei lavori per l'installazione dei varchi e infine la procedura di approvazione del piano da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti. Procedere quindi all'installazione significa aspettare almeno la fine del 2024, verosimilmente quindi entreranno in funzione nel 2025. Ridurre il traffico in centro però significa anche favorire l'uso della bicicletta e anche in questo caso in commissione consigliare l'assessore ha spiegato che saranno in tempi relativamente brevi fatti degli stalli appositi per le biciclette vicino agli attraversamenti pedonali per mettere in sicurezza la bici legandola al telaio. Sempre l'assessore Serra ha poi spiegato che l'amministrazione ha vinto un bando regionale con un progetto per completare e collegare tutte le piste ciclabili attorno alla città. Nonostante le temperature ancora miti sono già numerosi gli italiani alle prese con i primi raffreddamenti e sintomi influenzali ed in Piemonte da lunedì prossimo sarà possibile vaccinarsi dal proprio medico di famiglia o in farmacia. Sentiamo da Alessandra Dallacato. Prende il via in Piemonte da lunedì prossimo la campagna di vaccinazione anti-influenzale presso il proprio medico di famiglia o le farmacie che hanno aderito. La vaccinazione come da indicazioni del Ministero della Salute è consigliata alle fasce più fragili, bambini fino ai 6 anni e over 60, portatori di malattie croniche nonché ospiti delle residenze assistenziali per anziani che verranno vaccinati in struttura. Sempre da lunedì prossimo nelle strutture dell'Asla L è inoltre possibile prenotarsi per la vaccinazione anti-covid, fortemente raccomandata agli over 60, agli operatori sanitari, alle donne in gravidanza e nel postpartum, agli ospiti delle residenze assistenziali per anziani oltre che ai malati cronici. A partire dal 6 novembre poi sarà possibile vaccinarsi negli ambulatori vaccinali sede distrettuali di Alessandria, Casale, Novi Ligure, Tortona, Aquiterme e Ovada. La prenotazione va fatta telefonicamente allo 0131 30 78 22 dalle 8 alle 19, dal lunedì al venerdì. Sarà possibile nei soggetti non ancora vaccinati contro l'influenza ricevere l'anti-influenzale contestualmente alla vaccinazione anti-covid, come da raccomandazioni del Ministero della Salute. Cronaca, stamattina c'è stata una conferenza stampa dei carabinieri al comando provinciale di Alessandria in merito agli sviluppi di una lita che si è verificata a Ponte Curone lo scorso 28 settembre. In quell'occasione i carabinieri di Tortona avevano infatti rintracciato ed arrestato un cittadino di Tortona di 47 anni, responsabile ad aver sparato alcuni colpi di arma da fuoco contro un trentenne marocchino. Era stato un passante ad allertare le forze dell'ordine dopo aver sentito gli spari in via Dante. Poco dopo l'automobile si era allontanata. Sul posto erano arrivati i militari che avevano seguito, rintracciato l'uomo a Tortona. I due, come spiegato dai carabinieri nella ricostruzione dei fatti, si erano incontrati vicino all'abitazione della vittima e al culmine della lite il Tortonese aveva poi estratto l'arma ed esploso tre corpi che avevano colpito di striccio il cittadino straniero. Il Tortonese è stato arrestato per possesso illecito di arma da fuoco e tentato omicidio. Dopo la convalida dell'arresto il 47enne è stato portato in carcere. I militari hanno inoltre sequestrato una scacciacani e 14 cartucce di calibro diverso da quelle ritrovate sul luogo della sparatoria. Funerali in forma privata, strettamente privata per le vittime della strage di via Lombroso d'Alessandria. Lo ha comunicato tramite una nota illegale della famiglia Giovannacci Benzi che nel ringraziare quanti si sono uniti al dolore di questa tragedia ha anche fatto sapere che le esegue saranno celebrate la prossima settimana. Sentiamo di più da Chetti Porcelli. Si svolgeranno la prossima settimana i funerali di Monica Berta, Matteo Benzi, Carla Schifo e Martino Benzi. La famiglia sterminata da quest'ultimo tra via Lombroso e alla casa di riposo di madre Teresa Miscial ad Alessandria. Lo ha comunicato con una lettera illegale Luigi Negro che ringrazia cittadinanza e amministrazione comunale per le dimostrazioni d'affetto, attenzione vicinanza tributata ai poveri cari Matteo in primo luogo e alla famiglia tutta in questi giorni tragici. Nella nota i ringraziamenti si estendono in maniera particolare proprio a Matteo, il diciassettenne che secondo le indagini era stato il primo ad essere ucciso dal padre mentre stava dormendo nel suo letto. La famiglia Giovannacci Benzi, si legge, desidera altresì ringraziare tutti i compagni di scuola e gli amici di Matteo, così come tutti i maestri i professori che lo hanno conosciuto e apprezzato e ovviamente la dirigenza scolastica di ogni ordine e grado per le parole espresse a ricordo. Così come termina la lettera, un ringraziamento doveroso va a tutti coloro che hanno rispettato l'immenso dolore dei superstiti per una tragedia immane e certamente insopportabile senza la vicinanza e la comprensione di tutti. Il legale fa dunque sapere che le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata e questo soprattutto per spegnere i riflettori su una vicenda tragica, sì, che era anche stata strumentalizzata dalla stampa, la quale non riusciva a capire come mai nessuno della famiglia si fosse fatto vivo in un primo momento per i funerali, circostanza poi risolta da problematiche burocratiche e dal definitivo nulla osta da parte delle autorità. Un nuovo progetto per il recupero dell'ex ospedale Sant'Antonio di Ovada è stato avviato grazie ad un accordo tra l'ASL e il Consorzio Servizi Sociali. È stato presentato nel corso di una conferenza stampa dal direttore del Consorzio Gianni Zillante e dal presidente Franca Repetto. C'era per noi Fabrizio Vantana. L'ex ospedale Sant'Antonio di Ovada sarà presto riqualificato grazie alla firma di un protocollo di intesa fra ASL e Alessandria e Consorzio Servizi Sociali. L'operazione che partirà tra breve costerà circa 3 milioni di euro, per buona parte risorse messe a disposizione dal PNRR e altri avanzi di bilancio del Consorzio. Sarà realizzato quello che noi chiamiamo il polo della comunità, polo della comunità che vedrà la parte sociale interagire con la casa della comunità dell'ASL e diciamo che Ovada riavrà l'ospedale vecchio, quello che tutti conosciamo come ospedale vecchio, completamente ristrutturato e con servizi di tipo sociale e servizi di tipo sanitario. Già da tre anni avevamo l'idea di chiedere all'ASL, che di fatto è la proprietaria di questo edificio, come poter intervenire. È uscito il PNRR che ci ha dato questa possibilità sia a noi che all'ASL per la realizzazione della casa della comunità e quindi il potenziamento di quelli che sono i servizi distrettuali, i servizi ambulatoriali. Quindi con i fondi realizzeremo due importanti progetti legati al mondo degli anziani e delle persone con difficoltà, con disabilità e potenzieremo quello che è il nostro servizio da sempre di assistenza domiciliare, si chiamerà SAD Plus, quindi un servizio di assistenza domiciliare potenziata, naturalmente con l'ausilio e l'utilizzo di tutte quelle che sono le nuove tecnologie che consentono anche agli anziani non accompagnati o comunque con difficoltà e ai disabili di essere seguiti e monitorati. I lavori dovranno terminare entro la fine del 2026. L'ASL aveva già pensato ad un'idea analoga da concretizzare però all'interno dell'ospedale civile, ma l'accordo col Consorzio dei Servizi Sociali, oltre a non sconvolgere i già ridotti servizi ospedalieri, consentirà il recupero di un edificio che ha rappresentato per anni il cuore della sanità ovadese che richiedeva da tempo interventi manutentivi urgenti. Giornata di convegni oggi ad Alessandria in occasione della quinta edizione della settimana nazionale della protezione civile, domani le esercitazioni sul campo ad alluvioni piovera, mentre domenica alle 10 nella sede del presidio territoriale di San Michele ad Alessandria e in programma la cerimonia conclusiva e la consegna delle benemerenze. Ma ci racconta tutto Alessandria della Cava. Si celebra oggi la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali, che si colloca nell'ambito della quinta edizione della settimana nazionale della protezione civile. Lo scopo è sensibilizzare i cittadini per un approccio consapevole al territorio che tenga conto anche delle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici. Durante il mese di ottobre per l'edizione 2023 un occhio di riguardo è rivolto ai giovani, con il lancio del fumetto L'attimo decisivo, distribuito in tutte le scuole secondarie di primo grado d'Italia. Ad Alessandria poi è in corso la celebrazione dei 20 anni di attività del settore radiantistico CBOM, presieduto da Gualtiero Esposito. Sono giornate di convegnistica e di amarcord delle emergenze affrontate e passate e sono momenti in cui si guarda anche al futuro del settore delle telecomunicazioni in protezione civile, i cui volontari sono operativi tutto l'anno, anche e soprattutto con esercitazioni pratiche. Le esercitazioni sono la base, quello che noi stiamo svolgendo qui ad Alessandria, oltre alla parte di convegnistica, che è sicuramente importante, la parte di formazione che è importante è proprio quella di fare l'esercitazione. Tutto il mondo della protezione civile si esercita, ci manca un po' di esercitarci sulle emozioni, cioè noi possiamo essere bravissimi a imparare in maniera meccanica le operazioni, poi però quando saremo là, che cominceremo a vedere certe situazioni, la parte emotiva, dobbiamo ancora trovare il sistema per fare l'esercitazione sulle emozioni. Viene da dire che per fortuna siamo esseri umani e non macchine. In un contesto di compleanno comunque che viene attualizzato attraverso questo numero, vent'anni nell'ambito delle comunicazioni, ci sono anche premi e momenti giustamente di festa. Sì, io sono il Presidente della Federazione, ovviamente è un'organizzazione che raggruppa circa 5.000 volontari in Italia, sono 250 le associazioni come la nostra federata di Alessandria che compie vent'anni, per cui siamo onorati tutti di essere qui a dargli il grosso applauso di questo traguardo importante. Organizzato da Paper Street 2.0 con la pièce Requiem for a Film e patrocinato dalla Regione Piemonte e Città di Alessandria, è stata presentata in comune la quinta edizione dell'Alessandria Film Festival che tornerà in città da venerdì prossimo 20 ottobre e durerà fino a domenica 22 ottobre. 16 in tutti i film in gara quest'anno e ci racconta Beatrice Augustale. Con oltre 100 film brevi, i candidati e 16 in gara torna in città l'Alessandria Film Festival giunta alla sua quinta edizione con tre giorni di proiezione ed eventi dedicati alla settima arte da venerdì 20 a domenica 22 ottobre. Ad inaugurare la manifestazione a Palatimo Vetus sarà Cirio D'Emilio, regista di Un giorno all'improvviso, presentato inoltre alla mostra internazionale dell'arte cinematografica del 2018 che durante la serata si concentrerà sul cinema noir con il conduttore di podcast cinefilo Davide Marra, concludendo con la proiezione del suo ultimo lungometraggio Per niente al mondo. La giornata di sabato invece sarà dedicata interamente alla presentazione e alla premiazione dei film brevi in concorso al cinema ambra, soddivisi in tre categorie, quelli da 59 minuti, 7 in tutto in gara, 5 corti da 62 minuti e 4 da 70 minuti. Dopo la consegna dei premi all'ora e 21 si continuerà con la performance di Riccardo D'Alferro in arte a Rick Duferre, dal titolo I volti del mal attraverso il cinema, incentrata sull'unione tra cinema e teatro, per poi terminare con la suspense hitchcockiana con The Lodger, considerato come il primo vero film del grande Alfred Hitchcock. A chiudere all'Alessandrium Film Festival domenica 22 ottobre a Palatimo Vetus sarà il documentario L'Isola, punti per un documentario, diretto da Claudio Braggio e Alessandro Cavazza, mentre all'Aleura 17 si proseguirà con l'attore Dario Aita, conosciuto per i suoi ruoli in molti film italiani, tra cui La Lieva e nella serie tv trasmessa su Netflix La Legge di Lia Poet, dove è interpretato il personaggio di Andrea. Con Stefano Careddu Aita racconterà la sua carriera, dagli esordi con i cortometraggi e web series, fino alla collaborazione con il regista Paolo Sorrentino. Anche per quest'anno ci sarà sempre il workshop dedicato ai più piccoli, con ben due appuntamenti, i laboratori dei bambini che si terranno sabato al cinema ambra, cura dell'attore e l'insegnante di recitazione Fabio Martinello e poi la proiezione del corto Desiderare le stelle di Valerio e Marcozzi. Adesso parliamo di sport all'Alessandria Calcio, non scenderà in campo questo fine settimana come sapete per l'invio al 31 ottobre del match con l'Atalanta Under-23. Per i grigi riprendere fiato sarà utile, mentre la società sta cercando rinforzi per la squadra. Dopo il centrocampista gentile, la società ha annunciato l'arrivo della punta Oscar Siaffa, originario della Guinea Equatoriale e con esperienze nel calcio spagnolo. sul fronte societario, in un altro colpo di scena, è stato sollevato dall'incarico il team manager Stefano Vercellotti. Tra poco nella pagina sportiva curata da Fabrizio Mattana parleremo anche di calcio minore con il punto sui campionati. Intanto la Novese ha eliminato ieri sera l'Ovadese dalla Coppa Italia di promozione. vi ricordo che poi seguiranno il meteo e le notizie utili. Alle 13 ci sarà l'appuntamento classico con sette sport dalla nostra redazione di Milano. Naturalmente si parlerà del caso di calciomercato e altri temi di sport nazionale. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie per l'attenzione e arrivederci alle prossime. Ferma l'Alessandria Calcio per il rinvio al 31 ottobre del match con l'Atalanta Under 23, richiesto dai bergamaschi, riflettori nel fine settimana sono puntati sul calcio minore. In serie D attesa per il match del Fausto Coppi fra Dertone e Vogherese con i Leoncelli che terzi in classifica proveranno ad agganciare la vetta. In eccellenza la testa della classifica vede le formazioni Alessandrine, Valenzana e Luese Cristo seconde con 12 punti, l'Acqui terzo con sette. Tutte e tre le formazioni sono impegnate in trasferta. Il fin qui molto sfortunato Acqui e Adronevo, la Valenzana Amado affronterà ad Asti di San Domenico e Savio, mentre la Luese Cristo se la vedrà col Saluzzo. In promozione da sottolineare i derby fra Quatese e Dovadese con gli uomini di Cavosio ad un passo dalla vetta e Novese Canelli. I biancocelesti sono terzi con 11 punti, mentre gli astigiani li distanziano di un solo punto. Intanto il derby del ritorno di Coppa Italia fra Novese e Ovada è stato vinto dai biancocelesti per 2-1. Nell'altro girone il Città di Casalo ospiterà il Natal Pali, il Biella. In prima categoria faticano ad imporsi le Alessandrine in un torneo dominato da Asca e Don Bosco Asti. Nel prossimo turno da segnalare il debito fra Atletico Acqui e Frugavolese. La Capriatese ospiterà il Moncalvo, la Fulvio sull'Europa, il Monferrato giocherà a Sale e il Tassavolo ospita il Costiglione. Impegno esterno per un Cassano a corto di punti contro l'Aurova Canottieri. Proseguono anche i tornei di seconda e terza categoria. In seconda dominano la Spinettese, Junio Asca e Libana. In terza promolare con 9 punti, Villa Romagnano con 7, Rocca Rimalda con 6. Terminiamo parlando di bocce. Si è conclusa con successo della società bielese di piatto sport, la 34esima edizione del Memory è intitolato Sergio Morelli, organizzata dalla familiare Alessandria. L'epilogo della competizione si è avuto ad un mese esatto dalla gara che aveva portato in finale Daniele Grosso e Massimo Cardano, opposti a pianezza che schierava Lucas Cassa e Federico Ramon. Finale lampo e a senso unico con Grosso e socio che si sono imposti 13 a 0. La gara era intitolata l'indimenticato campione alessandrino che ha tenuto alti i colori della città per tante stagioni entrando a far parte della storia delle bocce. Sui campi della familiare di Alessandria, che lo hanno visto protagonista in passato, si sono affrontati numerosi campioni del presente in una competizione a coppie a cui hanno partecipato 53 formazioni con sistema eliminatorio a pool. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto variabile per quanto riguarda la giornata di sabato al nord, infatti transiterà della nuvolosità ma non mancheranno anche delle schiarite. Segnalo qualche rovescio in Liguria e a fine giornata anche sulle Alpi. Diamo uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sul Piemonte. Per quanto riguarda la giornata di sabato, che sarà caratterizzata da tempo nel complesso asciutto, transiterà un po' di nuvolosità ma non mancheranno anche degli spazi assolati. Si segnala solo in serata l'arrivo di qualche rovescio sui settori montuosi, climamite con massime intorno ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domenica, situazione molto simile, perché infatti non mancheranno degli spazi soleggiati, transiterà solo qualche annuvolamento nel corso del giorno, temperature massime per lo più stazionarie. Preannuncio l'arrivo dell'autunno per la nuova settimana. Dettagli sull'app di Trevi Meteo. La Proloco di Castelletto d'Orba vi invita al tradizionale appuntamento con i sapori d'autunno. Al Palazzetto dello Sport, in località Castelvero, il 13, 14 e 15 ottobre si potranno gustare prelibatezze di stagione, come le lasagnette, porri, speck e gorgonzola, la zuppa rustica di ceci e tanto altro. Il 13 e 14 balli, animazione e DJ set. Domenica, grande pranzo finale. Si mangia e si balla al coperto. Sapori d'autunno, a Castelletto d'Orba. Il 13, 14 e 15 ottobre. La festa è qui!